L'assessore Berlinguer aveva assicurato che il progetto di monitoraggio del fiume Noce non si sarebbe fatto più perché la scadenza era troppo ravvicinata. L'aveva detto rispondendo ad una interrogazione del consigliere regionale Gianni Rosa sul bando dell'ARPAB che prevedeva la formazione di una long list di esperti da cui attingere due unità necessarie a portare a compimento il progetto. Ora scopriamo che verranno presentati i risultati del progetto, afferma il capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia. In consiglio si dice una cosa ed in concreto se ne fa un'altra e non è dato sapere come si darà corso al progetto concretamente. Per Gianni Rosa certo è che la gestione ARPAB continua a rimanere un grande mistero. Probabilmente le prossime elezioni amministrative che vedono coinvolti anche i centri di Lauria e Lago Negro hanno dato impulso a trovare una soluzione per portare avanti il progetto di monitoraggio.